ben tornati a nuovo appuntamento di ss arezzo tv anche questa sera dalla nostra redazione ma per raccogliere una vostra segnalazione che ci è arrivata della nostra pagina facebook di arezzo tv e che ci riporta alla stazione di arezzo dove c'è stata segnalata una grande sporcizia sul binario 5 binario 5 che è quello che diciamo viaggiano treni per firenze ma non sono insomma è uno dei tanti binari utilizzati alla stazione di arezzo quotidianamente guardate queste immagini che ci sono arrivate proprio da un telespettatore che ci ha inviato queste immagini girate con uno smartphone e allora vedete che comincia a esserci una certa sporcizia si vedono carte sigarette mozziconi tantissimi mozziconi poi pezzi di plastica bottiglie si ha la sensazione quindi ecco che ci sia una certa incuria e una certa inciviltà che aspetta il treno poi non ci pensa due volte a gettare i rifiuti proprio sui binari vedete addirittura ci sono anche nel marciapiede delle scatole o comunque dei rifiuti quindi non solo sui binari e quindi insomma è davvero un peccato ecco altra bottiglia è davvero un peccato che ecco i binari siano ottenuti in questo modo cartacce di ogni tipo ecco questo telespettatore vedete che ha fatto tutto il binario vedete ecco qua tutto il binario e di carte cartacce ce n'è di tutti i tipi quindi la sensazione che qui non puliscano mai da una parte che sia un comportamento purtroppo diffuso quello di gettare i rifiuti sui binari e anche dove passano i treni non ci saranno sicuramente pericoli però magari chi si trova ad aspettare il treno è probabile che questi rifiuti vengano finiscano schizzati addosso alle persone ecco qui vediamo invece i tantissimi mozziconi di sigarette tantissimi mozziconi sigarette che si possono vedere sempre in un punto particolare sembrano essere concentrati e ancora non sarà insomma il principale problema della stazione di arezzo però denota l'inciviltà dei nostri tempi dove chiunque magari aspetta il treno invece che gettare i rifiuti nel cestino li getta sui binari o magari qualcuno li getta anche magari dai treni in corsa sempre che i finestrini si possano aprire perché questo non è scontato difficile in questo caso intervenire chi dovrebbe intervenire alla stazione probabilmente nessuno ci vuole solo che magari si pulisca con maggiore frequenza almeno nei punti che si trovano a ridosso appunto del marciapiede della stazione e quindi l'unico appello che si può fare in questi casi oltre a una maggiore pulizia e davvero non c'è motivo con tutti i cestini che ci sono proprio alla stazione di gettare questi rifiuti anche il semplice mozzicone sui binari noi ringraziamo questo telespettatori che ci ha inviato questa segnalazione anche a chi ci ha inviato il video di quello che accade al binario 5 della stazione di arezzo scriveteci redazione chiocciolarezzotv.net oppure potete scriverci come ha fatto questo amico anche tramite la nostra pagina facebook di arezzo tv ci ci vediamo domani